Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Lavandonia Prima che me lo chiediate, si sto registrando tutto lo stesso giorno Quindi non è che sono una persona che non si cambia i vestiti, che puzza Ecco, giusto per specificare, ho appena riniziato dopo aver finito il primo episodio Comunque, nello scorso episodio appunto, che cosa è successo? È successo che abbiamo scoperto che Canto è caduta nelle tenebre E che sono emerse nuove terre tipo, tipo questa Che ci portano in città irraggiungibili A nord di Smeraldopoli sono cresciuti alberi che ci impediscono il passaggio E oggi dobbiamo continuare per questa strada Abbiamo in squadra due Pokémon, ossia Mega Gengar e Crocodile Metterei davanti proprio Crocodile, raga, perché vorrei provarlo Tanto che il Pokédex ci ha detto che è un Pokémon molto forte Ha fatto una descrizione molto accurata, direi Vediamo se qua si trova qualcosa di diverso da Drifloon Qua addirittura si trova Ghost 2 Che immagino non sia attaccabile Aspettatemi No, aspettatemi un cazzo Voglio provare a catturare Ghost 2 Sì Sì raga, Ghost 2 In cosa si evolveva? Oddio, ho visto tipo Un Un Vespi Queen Cos'era? Eh, Meowstic Aspettate Com'è che si faceva? No Non mi ricordo come si faceva Ok Si trova un po' ovunque effettivamente come Pokémon Vabbè, insomma Proseguiamo Non le ho viste solo io, vero? Non le ho viste solo io No Ok Datemi le scarpe da corsa Così non devo velocizzare come un nebete Ok Ah, queste qua sono le isole spumarine Oddio, proviamo a entrare Isole spumarine Vediamo Antigelo Ma Si trovano i Pokémon? Oh Crobat livello 5 Bello Crobat raga Non lo prendo perché l'ho già preso un sacco di volte Nei miei let's play Però Tanta roba Allora Aspettate un attimo Andiamo a Ghost 2 Che però è di livello 3 Minchia È devastante sto cosa Aspettate no Devo cercare di fuggire Perché se no mi scanna Mi scanna Mi scanna Mi scanna Mi scanna Mi scanna Mi ha scannato Ok No Dovevo fuggire Mannaggia me Fuga Ok Ok Mi ha schiettato subito Ghost Buono così Minchia Crobat livello 7 Ma raga è fortissimo sto coso E io devo cercare di fuggire con questo Perché altrimenti raga C'è un problema di fondo Perché Ok Oh Gesù Cazzo Eh sì Poi Livello 14 Raga ma siamo matti Siamo matti Siamo matti raga Siamo matti Fermi Prendilo Eh no Eh ciao È stato bello È bellissimo Raga Attenzione Sono fortissimo a sto gioco Sì raga Le isole spumarine Non sono concepibili però Perché C'è come Come In che In che modo Posso vincere Ah eccola Era neve Adesso si spiega tutto Ok qua c'è una passare Passarella Neanche passarella Passarella Proprio Ok raga le balzo Le isole spumarine Perché in questo momento Non sono proprio in grado Ok Questo percorso bellissimo Con i sassi Che mamma mia Ed eccoci qua Fuxiapoli Che io da piccolo Ho sempre chiamato Fuscialopoli Ditemi voi se Grazie per avermi ripristinato Spero che torni presto Il sole Sei bella Sei bella come il sole Mi scusi Sa qualcosa Sulla Vandonia Mi dispiace Arriveder Sun Questo si chiama Sun Nella zona safari Adesso c'è solo una specie Di pokemon Oddio Sono curiosissimo Tu Oh si sono l'eliminamost Vuoi che elimini No Voglio che ti elimini Dal gioco Vattene Ok non c'è nessuno Vediamo se qua Oh Gesù Ciao Koga Vorresti sfidarmi Capipalestra Non abbandono la propria città Capisco che vuoi andare All'avandonia Ma prima dovrei battere me Mi hai pokemon veleno Sei pronta alla sfida Le prenderò in culo Oh Gesù Mi devo allenare Ok Ehm Allora Proviamola così Psico impulse Su mac Dovrebbe fargli abbastanza Ok Speravo meglio In realtà Però va bene Lo stesso Ehm Allora Riproviamo Un graffio Su di lui E E un graffio Anche su di lui Ok Fango Perfetto Finchè mi fai fango No 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 Minimizzato no Minimizzato no Tutto ma non minimizzato Tutto ma non minimizzato Vai giù vai giù Ti prego Ti prego No cazzo Questo è sicuro Questo è sicuro Al 100% No Che Che palle Allora Eh ma non ce la farò mai Nella vita Oh Proviamo a mandare un attimo Ghost 2 Non sicura Ok Mack ha evitato L'attacco Si può avere così Tanta sfiga Ottimo Iniziano a crescermi Di livello i pokemon Ed è un'ottima cosa Addirittura Ghost sale a livello 6 Grandissimo Manda in campo Koffing Ok calma Qua me la devo Giocare bene Allora Koffing non dovrebbe Avere mosse Pericolose Per i miei pokemon Quindi Ma andiamo giù Mack raga Madonna Ghost di merda Inutile come pochi Attacca Ok E uno è andato E ghost è livello 7 Ghost è livello 8 Weezing Ok Weezing Direi che è il problema Principale E che deve schiattare No Gengar Non fallire Gengar Non fallire Sei l'unico buono In sto team Bravissimo L'hai pre Oh L'ha sciuttato raga Godo E si sale E si sale Tantissimo Sig Minchia Gengar eroe raga Hashtag Gengar eroe Psico Mamma mia Li sciotta tutti Grandissimo Livello 10 Per ghost 2 Che impara addirittura accanto Che bello lo sprite di Koga raga Otteniamo una medaglia Anima Bravissimo La difesa dei tuoi pokemon Adesso è aumentata Inoltre puoi usare anche la mossa Surf Anche fuori dalla lotta E otteniamo Tossico Non tossino Otteniamo proprio un tossico Direttamente Con tanto di bamba Inclusa Eh Ma ho sbagliato E vabbè Ok Prima medaglia Ottenuta Sinceramente ragazzi Non credevo Che si potessero ottenere Le medaglie In sto gioco Ma va bene Lo stesso Io lo accetto Bene così Allora Esploriamo un po' la città Eh Casa del guardiano safari Che è tipo vestito di nero Haifu 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 Tutti così parlano questi Io sono un pescatore Ho sempre amato pescare Non hai molti amici Ti piace pescare Perché non dovrei avere molti amici Perché mi piace pescare Ma cosa vuol dire sta cosa Ok Qua ci sarebbe dosare surf L'unico problema È che noi Eh surf Ciao Che cazzo dico Taglio Cabuto Si è proprio evidente Questo cabuto Ma anche gli altri Ok I recinti sono totalmente vuoti Non solo sono vuoti Ma sono pure aperti Bene Perfetto Il cane fuori ovviamente Abbaia Questa cosa qua È letteralmente vuota Bene Vediamo se Il market È ancora Di qua si potrà andare Bene È scomparso Un pochino La pista ciclabile Mi sa che È tipo Affondata Vediamo un po' Che pokemon ci sono Ok Era meglio se non guardavo Comunque raga Crocodile Livello 6 Ancora Quello che non serve a niente Mettiamo davanti Mega Gengar Raga È l'unico buono che ho Anche Ghost Cioè Ghost È a livello 10 Ma cioè Alla fine Alla fine non ha fatto Niente Cioè Hanno fatto tutti Gli altri Comunque Ok A sto punto raga Non resta altro Oltre ad andare al market Per vedere se riesco A comprarmi cose Queste cose qua Sempre sul bancone Mi fa morire Quanti soldi ho Oddio Oddio Because the money Are not Always troppi Mi compro anche I revitalizzanti A sto punto Perché Ho capito che qua Minchia I full rep A parte che i full rep Ma si li prendiamo Dai Tell keep Ottimo Qualche ultra Ma si tanto raga Abbiamo tanti di quei soldi Da spendere Che 14 Va bene Dai Voi dite qualcosa di utile Non sei andato Gin Non sei andato Alla zona safari Ho intenzione di andarci presto Non presto Adesso ho intenzione Andarci Segui la luce Seguiamo la luce Seguiamo il yuk Perché il yuk È la luce di ogni cosa Ok Mi fate pure pagare Siete pure bastardi Vuoi giocare? Sì Usarei delle pokemon special Non special Ok È partita pure la pioggia Sono curioso di vedere Il pokemon A sto punto Cristo Ok Mentre rifacevo il gioco Ho notato questa cosa Bello Davvero Non solo Ma anche questo Ho notato Lasciamo perdere Il prezzo Lasciamolo perdere Ok raga Ovviamente Io non lo faccio Perché non sono così Merda Comunque Sì Sono ancora qua E non ho neanche Battuto Koga Cioè Ero qua in teoria Non so perché Sono compenetrato Nel Il centro pokemon Sta cosa qua Non l'avevo notata Comunque beh Adesso ristoppo In ogni caso Ho trovato anche lui Che ha solo maledizione Però Quindi è abbastanza inutile E niente Adesso ristoppo E a meno di incredibili cose Tipo quelle che avete appena visto Ci rivediamo tra un attimo Tra l'altro adesso Alleno anche un attimino I pokemon Così almeno saremo Un po' più Preparati Ecco Ok ragazzi Rieccoci qua Ho allenato Tutta la squadra A livello 10 A parte Mega Gengar Che dovrebbe essere A livello 11 E questi sono i moveset Che ho ottenuto Graffio Canto Graffio Psicoimpulso Che non è cambiato Maledizione Pallaombra E la chicca finale Vento Rasoio Vento Rasoio Che bella mossa Comunque Ho fatto un save state Stavolta Quindi qualsiasi cosa succeda Dovrei essere Paraculato Vediamo se riesco a trovare Sto dannatissimo pokemon E che schifo Mi aspettavo qualcosa di meglio Ok Che aborto Comunque Allora Non avendo surf Questa zona qua Non c'è mai stata però Otteniamo un revitalizzante max No no Invece si che c'è stata C'è stata e come No Non c'è mai stata Ma porta una zona Che esisteva già Penso Sì infatti ci porta Praticamente Siamo arrivati Ok Immagino di dover ottenere Surf dal tipo Che sta qua dentro Però ci sono un bot di strumenti Qua in giro raga Doppio team ragazzi Utilissima Eccoci qua Ciao Finalmente Sei la prima persona Che riesci a trovarmi Per festeggiare Ti regalerò una cosa Non so se te lo meriti Ma sono obbligato a dartelo Grandi Da questo tizio Perfetto Raga Sto gioco qua Mi sta piacendo un po' Cioè in realtà È pieno di bug Però Però non è male in realtà Ray unknown Ray unknown Raga Questo è È il re degli unknown Raga non ci credo Ray unknown Oddio Ha pure ipnosi Oddio Ray unknown Era una leggenda metropolitana Ma famosissima Ray unknown Intanto qua trovo Una nocciolina Vabbè Tutte le cose Da vendere Perfetto Sì Che figata Raga Che figata Ray unknown Ok Ora che ho surf A parte che Ho tossina La insegnerei a crocodile Così a muzzo Sì perché non avevo ancora Rinsegnata Quindi vabbè Ho detto Evitiamocelo E però Non ho nessuno in grado Emo 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 Che cazzo si farà Non si sa Ex Pista ciclabile Perfetto Non si sa Anche perché Io avrei bisogno Di taglio Per proseguire E Ok devo tornare Indietro alle isole Spumarine Il che avrebbe senso Ok devo trovare Un pokemon Con surf Ma per ora Non ne ho incontrati Di pokemon Che sanno usare surf Cioè la c'erano Cioè la c'erano solo Known Rotom A livello 1 Perfetto Qua tra l'altro Si trovano altri pokemon Tipo Arbok Wheezing Tipo forse Mac Può imparare Surf Ma non sono Neanche sicuro Di ciò E qua si trovano Solo Rotom Quindi benissimo Che bella la vita Eccolo qua Ghost a livello 1 E Scusatemi Ghost 1 A livello 9 Sto facendo confusione Non lo so Sinceramente Forse queste cose qua Porteranno a qualcosa Allora Ray unknown Davanti Perché Vorrei evitare Di incontrare Pokemon selvatici E Repellente E vediamo Se Funziona Si ovviamente Non mi sono rifatto Neanche questa qua Quindi tipo L'antigello L'ho ritrovato Ok perfetto Si vabbè raga Livello 17 Però un suicidio Allora Proviamo ad addormentarlo E poi a fuggire così Can't escape Allora Proviamo a mettere a questo punto Mega Gengar E gli facciamo un Uno psico impulso assurdo Eh Però lui regge bene E questo è il problema Eh Wake up Fa morso Tranchi Ho vinto Ok Mandiamo Ghost 1 Facciamogli maledizione Stupire Neanche sgomento Stupire Questa cosa qua Non l'avevo neanche notata Ci suicidiamo raga Ma è l'unico modo Di vincere Perché Obiettivamente Allora Proviamo a mandare lui A sto punto Facciamo un canto Così stupire Attenzione Big Mosse E Graffio Adesso muore Sì ma raga Ma è un po' difficile Andrà avanti così Livello 11 per Ghost Ottimo È un po' Ma giusto un po' Difficile Poi io Non so Che fine sto facendo Ok Sì No A che livello A che livello Oddio Se non entra Un problema L'ho preso Che culo Ok mi sa Che questa cosa qua Non dovrebbe succedere Raga Ma io l'ho preso Sappiatelo Solo per surf Più che altro Per capire Se serve Oh mettiamo Un attimo davanti Così almeno Mi metto il repellente E vado tranquillo Oddio Sta cosa qua È stata stranissima Perfetto Ma fammi capire No Non c'è Coso E io non ho neanche la MT forza Ma la MT forza Lo tenevo a fuxiapoli Raga Otteniamo la grande perla Nel frattempo Si fa sempre più incasinato Questo gioco Pietra idrica Ok Sì Si voleva quella pietra idrica No Ok Sarebbe stato figo Ma no Balsa Anche questa balsa Non lo so raga Cioè non so proprio Cosa fare Effettivamente Ho pensato che Era vitalizzante Nel frattempo Che questa cosa qua Potesse tipo Portarmi a Pensato che potesse Portarmi Alla vandonia Ma Cioè A sto punto Dubito Allora Proviamo un attimo A Tornare indietro E vediamo se È troppo incasinato Mi sono pure perso Mi sono pure perso Otteniamo una ultra ball Allora Calma Devo cercare di uscire Da sto posto Ok Quello lì è il famigerato Famigeratissimo Oserei dire Oh Gesù bambino Mi sto perdendo tantissimo Ok Dovrei essere arrivato alla fine Si fammi uscire Ti prego Ok Raga stoppo qua Nel prossimo episodio Cerco di informarmi Su come andare avanti E come proseguire Vi farò sapere Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così invito Come al solito A lasciare un bel mi piace A commentare E a iscrivervi al canale Rispondete Mi raccomando Alla domanda del giorno Non l'ho detto Ma Nello scorso episodio Ma come al solito Ci sarà una domanda del giorno E passate ai social Che trovate in descrizione Detto ciò Noi ci becchiamo In un prossimo Video Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo